Grazie mille! E adesso Rezzo Rupine, sui ospiti! Buona giornata! Margherita Vicario sul palco questa sera, prima... Beh, insomma, spezzare il ghiaccio non è semplicissimo. Un bel ghiaccio poi, adesso guarda che bel pubblico che abbiamo per quello che va a succedere. E ti ringraziamo comunque per questa tua partecipazione al San Michele Festival 2014. Ebbene, è arrivato il momento di un grande personaggio come... Come avrete capito, fra poco sul palco ci sarà... Aspetta, lo dico... Renzo Rubino! Qualche notizia su di lui, naturalmente, il premio della critica a Sanremo 2013, il premio che va a premiare proprio quello che è la qualità. Non solo! Terzo classificato a Sanremo 2014. Ma tra l'altro ha scelto proprio Aprilia per concludere il suo tour estivo, secondo Rubino Tour. Questa sera non sarà da solo sul palco perché ad accompagnarlo ci saranno le splendide voci di due donne. Due donne, la prima, Annalisa Sgarrona! Eh, già! Seconda classificata da amici! Seconda classificata da amici, disco di platino per il disco senza riserva. Con una vendita veramente esagerata. Una vendita davvero esagerata. E poi abbiamo Francesca Michelin. Assolutamente il video più visto su YouTube nel duetto con Fedez e il Cigno Nero. E questa sera si faranno compagnia su questo palco grandioso. Facciamo sentire tutto il vostro applauso qui per i nostri artisti. Sicuramente! Belli carichi! Naturalmente il nostro concerto principale è con lui, il nostro Renzo Rubino! Renzo! 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 Renzo